Cavalli in pistina interna, pronti per partire. Rebus degli dei e tequila le prese, problemini per Rebus, passa subito la tequila, parte sebbene anche Sektor che punterà in avanti, è partita la grande la Pompadour e anche Tolfri B, e così si presenta Sektor e anticipa l'idea di Pompadour, passa Sektor, 200 metri di gara in 16 e così Antonio Di Nardo al comando con il suo Sektor. Cavalli di fronte, subito per linee steven del ronco, 400 se ne vanno in 30 abbondanti, Sektor, Pompadour, tequila, boom boom, nelle prime posizioni Rebus, poi via via tutti gli altri. Allunga Sektor, vuol fare un po' di andatura, addirittura 44 i 600 e Sektor ha il comando, ha il completamento della piegata. Cavalli che si presentano davanti alle tribune, allargano anche Odidi e gli Ulivi, mezzo miglio se ne va in 59 e mezzo, Sektor, tequila, ecco che Steven va in carburation, ma viene anticipato da Tolfri B, i due vanno sui primi, insistono i due e agganciano le prime posizioni, 14 e 4 il primo chilometro, Tolfi B, Valsalchi di Sektor, seguito come un ombra da Steven. I cavalli affrontano la penultima curva, Sektor A al comando, ha imposto la corsa sull'andatura, allargo Marcello Vecchione e il suo targato B, allargo il Francesino col suo targato Ronco, poi di dentro è la tequila, boom boom, avalia 600 metri dalla conclusione, un 14 e 4 eloquenti di fuori, viene via Steven, Steven va in carburation, mette il turbo, mette il turbo, 1,33 la sua quota, Steven ha il comando, Steven come volete chiamarlo, 1,58 il miglio, allunga e si distende Steven del Ronco, il Francesino ha il comando, retta d'arrivo, poca trippa per i gatti, Steven da cavallo nettamente superiore, un eloquente Tolfi B è generoso, poi un rebus degli dei, viene via la grande ossigeno Bigi e mentre Steven appartiene a un'altra corsa, Tolfi B è secondo, terzo è rebus, poi c'è ossigeno e foto per il quinto. 1,13,8 da tarare, 1,13,8 da tarare signori, addirittura non lo riesce a fermare il Francesino neanche dopo il palo questo cavallo, era nato per correre in Francia, era nato per stare in Francia, ma dove ha trovato la Francia e qui in Italia, ma soprattutto nella immensa Napoli, con tutto il gruppo dei minopoli, Steven del Ronco, lui doveva essere, lui è stato per dispersione no limits, 1,33 la sua quota in chiusura, l'undice secondo, terzo e il tre di rebus, al quarto il sei di ossigeno, foto molto stretta, molto stretta, tra il sette di Odi e il 2, di trofeo di lui, rinnova ancora gli auguri di buona Pasqua a tutti, io vorrei trovare nell'uovo di domenica la ritrovata unica e il ritrovato Vampire Daily, questa sarebbe la Pasqua più bella e poiché oggi è venerdì santo, le corse sono interminate, andate in pace, buonasera a tutti